Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come realizzare una transizione zoom sia in che out in Premiere Pro. Ma cosa particolare, per questo vi chiedo di guardare tutto il video, quindi capire come funziona questa tecnica, e alla fine vi mostrerò come scaricare e installare gratuitamente il preset pack di zoom che ho creato io disponibile online. So che già state fremendo, quindi andiamo subito a vedere come creare una transizione di zoom in o zoom out all'interno di Adobe Premiere Pro. All'interno di Premiere io ho due clip. Tra questi due clip io voglio realizzare una transizione di zoom in. Ora, per creare questa transizione io ho bisogno di due elementi in particolare da aggiungere. In particolare, quello che voglio aggiungere è un livello di regolazione. Questo livello di regolazione dobbiamo realizzarlo di 12 fotogrammi. Perché 12 fotogrammi? È una motivazione molto semplice. Quello che noi dobbiamo andare a creare è una transizione, le transizioni hanno una durata. Il sistema che noi stiamo creando andrà a creare un'animazione che va a sostituire quella che è una transizione. In questo caso, essendo una transizione costruita da noi, non possiamo fare un semplice trasciamento dell'effetto sul nostro taglio, ma comunque abbiamo bisogno di un paio di accorgimenti. E per creare una giusta transizione abbiamo bisogno di una durata. E questa durata, mediamente, è di 12 fotogrammi. Naturalmente, voi potete farla più corta o più lunga. Poi, quando dopo vedremo come funziona il preset, è un preset adattabile e scalabile, quindi potrete poi tranquillamente realizzare una transizione con il preset, quindi molto velocemente, della lunghezza che volete voi. Prendiamo il nostro livello di regolazione, abbiamo detto di 12 fotogrammi, e andiamo a metterlo esattamente alla metà della sua durata nel centro del nostro taglio, quindi dove abbiamo il taglio tra la prima clip e la seconda clip. E lo portiamo su un livello superiore, quindi su una traccia video superiore. Andiamo a copiare questo livello di regolazione e lo incolliamo subito sotto. Quindi noi avremo adesso due livelli di regolazione di 12 fotogrammi, uno sopra l'altro. Ora, il secondo dobbiamo andarlo a trimmare fino ad arrivare alla metà, quindi che partirà dalla metà, dalla nostra clip, fino a quella successiva. Quello che noi stiamo andando a realizzare adesso è una transizione di zoom in. Nel caso in cui noi volessimo realizzare una transizione di zoom out, dobbiamo fare il contrario, quindi questa operazione è qui. Ma adesso capirete il motivo di questa disposizione. Andiamo adesso per prima cosa a prendere un effetto, l'effetto replica. E lo mettiamo nel livello di regolazione sottostante. Andiamo ad impostare il valore del replica al numero 3 ed andiamo a prendere l'effetto specularità. Ora, questo effetto dovremo fare diversi passaggi ed utilizzarlo ben quattro volte. Andiamo a vedere come. Quello che dobbiamo andare a fare è eliminare queste linee sia verticali che orizzontali. Quindi, applicato il primo effetto, diamo un angolo di riflessione di 90 gradi e scendiamo fino ad eliminare quella che è la prima linea orizzontale. Prendiamo un altro effetto specularità. Questa volta lo mettiamo a meno 90 gradi. Saliamo su un pochino e andiamo a eliminare il secondo effetto, la seconda linea orizzontale. Così facendo, abbiamo eliminato le nostre prime due linee. Andiamo ad applicarlo una terza volta. Questa volta a 180 gradi l'angolo di riflessione. E andiamo a spostarci per eliminare questa linea qui. Quindi, la prima verticale. Quarta ed ultima volta, applichiamo il nostro effetto specularità. Questa volta a 360 gradi. E spostiamo il nostro cursore del centro della riflessione per eliminare la terza ed ultima riga. Così facendo, noi abbiamo realizzato un primo effetto che non va animato, ma che replica l'immagine ben nove volte. E ne abbiamo eliminato linee orizzontali e verticali. Ora andiamo a realizzare quella che è la vera e propria transizione. Andiamo a prendere l'effetto trasformazione, che si trova sotto la voce distorsione, e lo applichiamo a livello di regolazione superiore. Ora qui dobbiamo andare a realizzare la nostra animazione. Quindi portiamoci all'inizio del livello di regolazione. E come potete vedere, l'effetto trasformazione ha tutti i parametri molto simili a quelli che sono l'effetto di movimento. E infatti questo serve a realizzare delle trasformazioni aggiuntive oltre all'effetto di movimento già presente per ogni clip. Andiamo a prendere l'effetto scala. Da 100%, quindi diamo un keyframe e creiamo il primo keyframe. Andiamo alla fine e selezioniamo 300. Così facendo, quando selezioneremo 300, quello che faremo è zoomare all'interno della nostra immagine di tre volte. Se voi pensate che noi qui abbiamo replicato l'immagine, l'abbiamo suddivisa per tre volte. Infatti se andiamo nell'effetto replica che c'è sotto, il conteggio della replicazione è di tre. Quindi abbiamo tre immagini per tre. Così facendo, noi abbiamo esattamente zoomato all'interno della nostra immagine per tre volte. E quindi siamo ritornati ad ottenere l'immagine finale. Ed infatti quello che noi otterremo è questo. È la nostra transizione. Naturalmente non abbiamo terminato perché prima di tutto dobbiamo andare a prendere quelli che sono i nostri keyframe e dobbiamo andare a lavorare leggermente con le curve. Quindi selezioniamo la nostra curva, la portiamo leggermente giù così da creare questa montagnetta e facciamo in modo che tirando i due cursori bezier riusciamo ad ottenere questo tipo di curva qui. Quindi appunta a montagna e dobbiamo cercare di fare in modo che questa montagna risulti esattamente nel centro del nostro taglio. Quindi andiamo a lavorare con le curve fino ad ottenere questo effetto qui. Questo significa che partirà lentamente la transizione, accelererà nel mezzo e decelererà lentamente. Questo qua è l'effetto d'animazione che abbiamo ottenuto. Ma un'ultima cosa che possiamo fare è spuntare questa voce usa angolo dotturatore della composizione ed impostare l'angolo dell'otturatore tra i 180 e i 360. Così facendo noi aggiungeremo un motion blur alla nostra transizione. Diamo invio sulla tastiera così che possiamo pre-renderizzare il nostro materiale e vediamo il risultato finale. Ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra transizione zoom all'interno di Premiere Pro senza plug-in esterne quindi tutto all'interno. Naturalmente sono dei passaggi che vanno rifiniti nel senso che la curva di animazione della transizione va lavorata va trovato il giusto compromesso tra animazione, velocità ed effetto. Tutto questo l'ho fatto già io in precedenza per voi realizzando un preset disponibile gratuitamente e scaricabile naturalmente gratuitamente. In descrizione e da qui qualche parte vi inserisco il link per poterlo scaricare. voi vi registrate e lo potete scaricare gratuitamente. Quando cliccherete sul link quello che vi apparirà è questa pagina dove potete tranquillamente scaricare questo Zoom Transition Pack che adesso vediamo in cosa consiste e come funziona. Non c'è l'obbligo di acquisto quindi potete tranquillamente scrivere 0 dollari e fare buy now. Lui giustamente vi chiederà di iscrivervi alla piattaforma e poi scaricarlo gratuitamente senza alcun costo. Una volta scaricato il file quello che vi ritroverete è un file zip. Andiamo ad aprire questo file zip e vediamo che cosa contiene. Contiene un solo file un file che si chiama un file dell'estensione dei preset di Adobe Premiere Pro. Come si installano i preset di Adobe Premiere Pro? Diamo un'occhiata veloce. Andiamo nel pannello del controllo effetti cliccando con il tasto destro sulla voce predefiniti possiamo selezionare la voce Importa predefiniti. andiamo andiamo a pescare la cartella dove abbiamo il nostro file lo selezioniamo e facciamo apri. Così facendo noi all'interno della cartella predefiniti troveremo adesso la cartella Zoom Transition by Luca Auletta con all'interno tre voci tre preset. Adesso vi spiego a cosa servono e cosa vanno a rimpiazzare. Il SMLS Utility va a rimpiazzare tutte le operazioni che noi abbiamo fatto in questa voce qui quindi l'effetto replica e gli effetti di specularità quindi non dovrete mettervi voi a farlo manualmente ma andando a cancellare tutto cancelliamo anche la transizione potrete trascinare questo utility nel livello di regolazione inferiore e Primer applicherà in automatico quelli che sono i preset che servono per ottenere questo risultato e poi nel livello di regolazione superiore quindi quello che è lungo il doppio andiamo ad applicare la transizione che noi vogliamo quindi lo zoom in o lo zoom out in questo caso io applicherò lo zoom in adesso vi spiego qual è il motivo una volta applicato lo zoom in basterà pre-renderizzare il materiale in timeline ed otterremo la transizione come l'abbiamo fatta prima soltanto che ora io ho lavorato per preparare il preset ho lavorato la curva di animazione quindi la curva è molto più morbida e l'animazione è giusta vi dicevo all'inizio del video che questa tipologia di preset è scalabile vi faccio vedere vi spiego cosa significa io ho realizzato il livello di regolazione che ho realizzato è di 12 fotogrammi ma io lo voglio fare di 20 quindi andiamo ad allungarlo a 20 fotogrammi lo portiamo sempre nel mezzo allunghiamo il secondo livello di regolazione fondamentale adesso vi mostrerò anche il motivo e andiamo a prendere ad esempio la transizione di nuovo zoom in una volta applicata la transizione come potete vedere ci sono due keyframe nel controllo degli effetti e sono esattamente all'inizio ed alla fine quindi è scalabile nella lunghezza che voi preferite perché è importante il secondo livello di regolazione nel momento in cui noi andiamo a vedere l'effetto della transizione senza il livello di regolazione ci renderemo conto che la seconda clip è davvero molto zoomata quindi il secondo livello di regolazione serve a croppare quella che è l'immagine e a creare dei bordi che ci possono servire durante l'animazione per non vedere il nero a destra e sinistra perché può capitare che l'immagine quando andiamo a zoomare parecchio ci possa capitare essendo un'animazione quindi l'immagine d'arrivo non sarà mai centrale avremo dei bordi con il secondo livello di regolazione noi andiamo ad aggiungere dei bordi quindi dei bordi riflessi che possono essere utilizzati da Premiere per non mostrarci il nero intorno e allo stesso tempo noi andiamo a zoomare correttamente l'immagine per far funzionare questo preset o per meglio dire questa tecnica per realizzare uno zoom quindi semplicemente io trascino la seamless utility sul secondo livello di regolazione naturalmente diamo di nuovo il render perché è un effetto molto pesante ed otterremo il risultato finale ecco qua il risultato finale come potete vedere quando andiamo a zoomare in questo caso qui ad esempio elimino la specularità senza l'effetto di specularità quello che noi otterremo sono tanti di quadri uno accanto all'altro invece con queste funzioni noi otterremo un borderless quindi non vediamo i bordi dell'immagine perché sono ricostruiti fittiziamente all'interno dell'animazione essendo veloce non lo annotiamo vi consiglio di mantenere il livello di regolazione tra i 10 fotogrammi e i 12 per ottenere il miglior risultato possibile ora ultima cosa che voglio spiegarvi è che per ottenere l'effetto di zoom in bisogna mettere il livello di regolazione inferiore quello con l'utility di seamless sulla destra quindi sulla clip d'arrivo mentre se vogliamo lavorare e realizzare una clip con transizione di zoom out dobbiamo fare il contrario quindi mettere la seamless utility il livello di regolazione con questi effetti qui sulla prima clip una volta fatto questo andiamo ad applicare lo zoom out andiamo in pre-render ed otterremo un effetto di zoom out insomma questo è come si realizza una transizione zoom senza bordi all'interno di Premiere Pro e questo giù in descrizione e da queste parti trovate il link per scaricare il mio preset per queste transizioni e vi ho mostrato come si utilizzano semplicemente insomma se questo video vi è piaciuto e o meglio ancora se il preset vi è piaciuto lasciatemi un mi piace se avete delle domande potete scriverle qui sotto nei commenti io tranquillamente vi risponderò e per non perdervi nessun aggiornamento iscrivetevi al canale perché ci sono delle cose sfiziose che usciranno prossimamente insomma cos'altro dirvi noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video